è un color zagor decisamente particolare il numero 17 di questa collana intitolato il signore dei cimiteri buonasera a tutti e ben ritrovati su canno tv oggi l'avrete capito siamo ancora alle prese con i fumetti torniamo a tuffarci nel mondo dello spirito con la scura e lo facciamo con questo color che forse potete trovare ancora in edicola io l'ho trovato per un caso quasi fortuito insomma ancora in edicola inizialmente non l'avevo comprato perché c'erano degli aspetti per quanto riguarda questo volume che non mi soddisfacevano pienamente ma qualche giorno fa trovandomi di passaggio insomma in un'edicola ci sono capitato all'interno e ho visto che in esposizione c'era ancora questa copia di questo color e così l'ho presa 8 euro e 90 è il prezzo del biglietto per questo albo che si compone di 130 pagine sono circa una trentina in meno del color text che costa uguale e sul quale inizialmente erano ricadute le mie attenzioni ancora prima rispetto a questo volume anche per via della foliazione maggiore insomma allo stesso prezzo naturalmente offerta allo stesso prezzo insomma la sensazione di portarsi a casa più roba da leggere allo stesso costo ma devo dire che tra i due forse ho finito per apprezzare più questo color zagor scritto da sergio stefano scusate stefano fantelli che è alla sua seconda prova sulle pagine dello spirito con la scura ci viene raccontato nei colori di dark wood non i tamburi di dark wood per l'occasione diventa i colori di dark wood la rubrica che troviamo all'inizio a modo introduzione insomma del volume e che fantelli si era già misurato con le pagine dello spirito con la scura con le avventure insomma di zagor in un maxi in un maxi prima appunto di approdare in una storia lunga potremmo così dire perché in questo maxi appunto aveva realizzato una storia breve grande appassionato di fumetti divoratore di zagor fin da piccolo questo ancora contribuisce insomma rafforzare quell'idea di famiglia no diciamo che è ormai ben presente nello staff zagoriano questo affetto ecco che 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 lega a tutti anche chi finisce a scriverci per la prima per la seconda volta le avventure ecco che lega tutti gli appassionati appunto di zagor i disegni di questo volume sono affidati a marcello mangiantini il disegnatore molto presente sulle pagine di zagor disegnatore non tra i miei preferiti io non ne ho mai fatto segreto nei filmati che ho registrato mangiantini non è tra i miei disegnatori preferiti di zagor ed è stato anche questo insomma la presenza di mangiantini uno dei motivi per cui inizialmente avevo un po snobbato questo volume devo però dire che e naturalmente adesso ve li mostrerò insomma un pochino più nello specifico questi disegni mi hanno convinto un pochino di più rispetto al solito anche la colorazione che solitamente giudico un po piatta e che effettivamente non è dotata di particolare spessore neppure in questo caso io trovo che si adatti un pochino meglio alle tavole di mangiantini rispetto magari agli stili di altri disegnatori se mangiantini continua a non convincermi sulle dimensioni insomma sulle proporzioni ecco delle anatomie braccia troppo lunghe vitini troppo stretti e poi queste vignette che secondo me si ripetono forse troppo spesso dove vediamo dei personaggi presi di profilo che interagiscono insomma tra loro in maniera oserei quasi dire decisamente banale ecco senza grandi grandi tecniche grandi soluzioni a livello di inquadrature momento abbastanza imbarazzante di questo filmato perché non ve ne sto trovando neppure una di queste vignette sebbene ne abbia individuata ben più d'una insomma nella nella lettura ecco di di questo volume non ne trovo e comunque mangiantini comunque lo giudico decisamente più adatto ecco alla rappresentazione dei paesaggi ed effettivamente anche in questo volume insomma da prova di realizzare dei paesaggi ecco ecco ho trovato una di queste vignette che vi dicevo prima dove compaiono insomma i due personaggi così di profilo tra l'altro questo braccio eccessivamente lungo di zago sembra quasi un tentacolo e che non mi convincono affatto le trovo insomma delle inquadrature abbastanza banali forse eccessivamente banali anche perché ripetute alquanto nel corso della storia però sono compensate insomma da delle tavole d'insieme secondo me veramente notevoli come potete vedere per esempio in queste vignette secondo me molto ben curate anche a livello di colorazione e quasi disturbano questi balloon bianchi che rompono la magia no di di questa tavola veramente molto dettagliata quindi va dato merito a mangiantini di essere un disegnatore straordinariamente efficace su alcuni fronti secondo me poi naturalmente tutta una questione di gusti se va a sandir però nel corso di questo di questo volume e ci si trova spesso insomma alle prese con vignette come questa che secondo me elevano la caratura dell'albo ecco rendendolo forse un pochino più interessante di altre storie disegnate appunto da mangiantini guardate anche che bella questa questa tavola dove rappresentato un po l'ingresso di zagore ecco in questa in questa osteria in cui il nostro rincontra questo guede dancer che è il principale comprimario naturalmente di questa avventura tanto da comparire anche nella copertina di quest'albo assieme a zagor mentre affronta la minaccia degli zombie si si parla di zombie perché fantelli ha ripreso uno dei suoi personaggi preferiti come ci viene spiegato nella nell'introduzione insomma i colori di darkwood infatti fantelli amava particolarmente il numero 94 di zagor intitolato la notte dei maghi ecco qui la copertina naturalmente di ferri ecco del dello zagor numero 94 che apriva una storia in cui zagor si misuravano solo con gli zombie ma anche con il voodoo e faceva la conoscenza appunto di questo guede dancer questo stregone da strapazzo questo ballerino questo cantante di 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 colore libero in qualche modo dalla schiavitù e se non altro in questa storia io il numero 94 non l'ho mai letto quindi non conosco insomma la genesi ecco di questo personaggio non conosco la prima apparizione di questo personaggio sulla sull'epopea zagoriana però mi ha ricordato un po le figure dei blues man di inizio novecento anche se in realtà questa storia si abbienta quasi un secolo prima no delle delle dell'epoca in cui appunto si muovevano questi blues man di colore che erano dei personaggi quasi leggendari che 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 ad oggi insomma risultano dei personaggi le cui vite sono in bilico tra realtà effettiva e fantasia leggende quasi folcloristiche dettate appunto da 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 testi che hanno scritto che hanno cantato e che 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 poi sono stati ripresi insomma stabilendo anche le basi appunto per la musica moderna ecco questo personaggio penso forse potrebbe in qualche modo ispirarsi a tutta questa questo immaginario ecco di personaggi vi ho parlato di voodoo vi ho parlato di zombie ma di voodoo e in effetti questa storia che parla di zombie zagor viene chiamato diciamo da guede che ha bisogno dell'aiuto di zagor perché la cugina di guede che era una insomma aveva delle 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 capacità ecco sovranaturali decisamente elevate e morta probabilmente uccisa da 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 degli zombie e che altro non sono che degli schiavi resi zombie quindi ulteriormente schiavizzati da un potente stregone che poi appunto è il signore dei cemiteri che compare in questa in questa in questa copertina come principale antagonista naturalmente della storia che lavora alle dipendenze di un certo cummings che è un potente proprietario di una miniera che appunto utilizza questi 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 schiavi resi zombie uccisi appositamente e resi zombie per come mano d'opera insomma nella sua miniera anche se nella seconda parte di questa storia vedremo che gli schiavi poi questo stregone agli ordini di cummings per delle motivazioni particolari c'è dietro tutta una vicenda di ricatti che io non vi insomma non vi dico per non rovinarvi magari la sorpresa per non rivelarvi tutto nella seconda parte di questa storia questo stregone abbastanza pericoloso si diciamo procurerà ecco in altri modi gli zombie ed è facile insomma immaginare come ecco la copertina penso che lo riveli abbastanza bene quindi evito di la copertina ma anche il titolo eccolo penso che lo rivelino entrambe abbastanza abbastanza bene e quindi vi dicevo essendo presente il voodoo si si ritorna insomma alla visione originaria degli zombie naturalmente quindi precedente alla notte dei morti viventi quindi al film di romero che poi ha stravolto diciamo la concezione del del dello zombie che poi è stata ripresa naturalmente fino ad oggi con tutta una serie di altre opere sia di romero che che di altri fino ad arrivare a the walking dead naturalmente ma molti si dimenticano che prima della notte dei morti viventi in realtà gli zombie esistevano già da decenni e decenni ma erano collegati al culto del voodoo e quindi c'era una concezione completamente una considerazione ecco completamente diversa degli zombie anche naturalmente a livello cinematografico da ho camminato con uno zombie di jacques tourner all'isola degli zombie ancora precedente con bella lugosi ecco gli zombie erano visti a tutti gli effetti come degli schiavi appunto ed è interessante la similitudine che in questo in questa storia si fa tra la schiavitù e lo stato di zombificazione che poi è un'esasperazione potremmo così dire della schiavitù perché gli zombie a differenza del film di romero e quindi della nuova concezione romeriana gli zombie originari insomma collegati al culto del voodoo altro non sono che schiavi fantocci fondamentalmente alle alle dipendenze del loro padrone tant'è che vedremo insomma sul finale di questa storia che quando al loro padrone succederà una determinata cosa la situazione si modificherà per i nostri ecco perché questa minaccia è così così pericolosa così tragica così impellente si ridimensionerà parecchio e anche in questo caso non vi dico molto altro quindi è interessante secondo me notare appunto questo 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 spunto secondo me molto molto carino molto riuscito anche naturalmente è un'avventura assolutamente leggera quindi niente di particolarmente profondo siamo da tutt'altra parte rispetto a storie più più spesse ecco in tutti i sensi però secondo me nella sua semplicità è un'avventura che risulta simpatica carina e godibile ci sono anche dei personaggi piuttosto interessanti nel corso di questa avventura come ad esempio la figlia di cummings che poi insomma arriverà nel finale della storia a compiere delle azioni anche piuttosto importanti e a proposito di cummings io ve lo mostro insomma in queste vignette un personaggio anche piuttosto particolare come abbigliamento sembra tutt'altro che un personaggio insomma di inizio ottocento ecco per come abbigliato questo completo bianco latoni manero scamiciato con 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 questa scollatura sul petto stile disco dance country potremmo così dire assomiglia più allo stile degli anni settanta to che a quello dei dei del 1830 però è divertente e molto fumettistico naturalmente è una storia tutto sommato di fantasia quindi si parla di zombie sì ci sono degli agganci cioè la realtà naturalmente si riflette anche in qualche modo sul tema dello dello schiavismo con zagor che giustamente non esita a prendere le parti di di chi è in difficoltà di chi è nel giusto insomma di chi è più debole indipendentemente dal suo ruolo sociale e dal colore della sua pelle ci mancherebbe altro e quindi zagor conferma insomma la sua umanità e il suo ruolo di di eroe di raddrizza torti anche in questo caso e a proposito di personaggio ve ne segnalo un altro molto molto carino ovvero otti con la h davanti che sarebbe la governante insomma la si la governante insomma di 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 della figlia di cummings che può ricordare etty mcdaniel che era tatamami naturalmente di via col vento ecco ci sono insomma delle similitudini a livello proprio estetico tra i due personaggi e così non potrebbe essere altrimenti insomma una storia carina una storia godibile francamente pensavo peggio in tutti i sensi e invece mi è piaciuta mi è piaciuta sia a livello grafico nonostante comunque ci siano ancora delle delle caratteristiche nello stile di mangiantini sti bracci troppo lunghi questi vitini da vespa questi profili a mio avviso tutt'altro che convincenti insomma non solo di zagor ma anche di altri personaggi ma in particolare di zagor a fronte però appunto di tavole veramente molto belle come quelle che vi ho mostrato prima e una colorazione che secondo me su mangiantini risulta un pochino più efficace rispetto rispetto al solito una storia scorrevole mi dispiace insomma di non poter fare il paragone con la prima avventura di cui compare guaday dancer che magari poi in futuro recupererò non lo so se se lo farò ve ne parlerò non posso insomma farvi paragoni però posso dirvi che la lettura è stata piacevole per me naturalmente bisogna prima di tutto digerire il prezzo piuttosto elevato di questa pubblicazione bisogna farlo all'istante subito perché il primo step che bisogna compiere naturalmente cioè comprare l'albo prima prima di leggerlo a meno che non si voglia aspettare poi in futuro di trovarlo nell'usato io vi ringrazio per l'ascolto di questo video fatemi sapere che cosa ne pensate a riguardo di questa storia se l'avete apprezzata oppure no per il resto ci rivediamo al prossimo filmato naturalmente se interessati ciao a tutti e buon proseguimento di serata grazie a tutti